Continuano a diminuire i ricoverati negli ospedali, torna a salire invece il tasso di positività. L'aggiornamento sul contagio diffuso dalla regione Lombardia registra a fronte di 57.994 tamponi effettuati 8.098 nuovi casi covid. Il tasso di positività sceso ieri al 12,2% sale nuovamente e raggiunge il 13,9%. Prosegue invece il calo dei malati nelle strutture ospedaliere. In terapia intensiva con un paziente in meno sono 37 i ricoverati in totale, mentre nei reparti ordinari con un calo di 7 letti sono 1.118 complessivamente quelli occupati. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 23 in Lombardia. I nuovi casi divisi per provincia sono 2.635 a Milano, di cui 1.180 in città, 506 a Bergamo, 1.018 a Brescia, 565 a Como, 260 a Cremona, 321 a Lecco, 132 a Lodi, 369 a Mantua, 782 a Monzebrianza, 439 a Pavia, 132 a Sondrio e infine 699 a Varese.